Ciao a tutti, bentornati al mio canale! E sì, come l'avete letto dal titolo, oggi vi starò parlando un po' come sto passando io questi giorni. Allora, iniziamo dalla mattina alla sera, vi starò raccontando un po' come sono le mie giornate, cioè la mia quotidianità. Allora, mi sto alzando tardi, già verso le 10, che prima mi alzavo alle 7 del mattino, già in questi giorni mi sto alzando tardi e vado a letto tardi. Quindi mi alzo, mi lavo i denti come tutte le persone, mi lavo come tutte quante, e mi devo vestire perché devo cacciare fuori i miei. Allora, voi sapete che io ho una cagnolina e lei ha 6 anni, siamo in un appartamento molto piccolo, se per caso le persone che stanno vedendo questo video per la prima volta, io mi sono trasferita all'Italia, qua in Spagna, e sono passata ad avere una casa grande con giardino a tre piane a un appartamento così piccino piccino. Quindi non ce l'ho più un giardinetto per far giocare i miei. Quindi io esco con i miei, quindi mi cambio tutta, mi metto un cappello, mi metto la mascherina e vado con i miei. Quindi io caccio i miei e vado giù in strada qua di fronte alla palazzina dove io abito, ci sono alcune, ci sono alcune no, ci sono delle palazzine una a fianco l'altra. Quindi io nel mio quartiere, c'è un cento metri, io non vado più in là. Cioè io arrivo all'angolo, torno indietro e faccio così avanti e indietro fino a che io non vedo che mi è finito di fare quello che deve finire. Raccolgo tutto, pulisco tutto perché esco con una boccetta d'acqua con detersivo, in più le bustine per raccogliere. e quando rientro a casa, giù sotto, lavo le zampe mini, lavo un po' le mie scarpe, entro nella palazzina e quando arrivo qua, la prima cosa che faccio è che io dentro, cioè ce l'ho la porta, come tutti quanti, per terra ci sono dei quadratini, cioè c'è la ceramica e allora io ho un raggio tipo di sei quadratini che io so che li posso calpestare venendo dalla strada, ecco, anche se sto qua davanti a casa. Io prima che faccio, pulisco per terra due o tre quadratini dove appoggero mini, pulisco per terra perché già mi sono preparata tutto, cioè la carta, il sapone, tutto, tutto lì, pulisco lì per terra, intanto tengo con me a mini. Quando ho pulito lì, lei è piccolina, la alzo, cioè lei pesa 5 kg, quindi ormai finirò questa quarantena con un bel muscolo qua e qua no. Quindi io a lei la alzo, pulisco le sue zampe e la pulisco dappertutto e la appoggio nella ceramica, che è pulito, dalle in poi lei può camminare. Poi dopo pulisco io, cioè attorno a me, in quelli altri due o tre quadratini che ho attorno a me e mi tolgo le scarpe lì, cioè non è che cammino. Caccio il piede dalle scarpe e faccio un salto perché io ho preparato le altre scarpe. E le mie scarpe rimangono lì, cioè non si muovono. Non si muovono fino a quando io, di pomeriggio, ricaccio i miei e faccio tutto lo stesso. Quando mi caccio le scarpe e mi metto le mie di casa già, vado in bagno subito, mi spoglio tutta, mi lavo il braccio tutto, se devo fare il bagno faccio, se no nel caso mi lavo tutto, lavo la mascherina perché io ho fatto le mascherine e le ho dovuto cucire a mano perché qua non si trovavano quelle chirurgiche, cioè non si trovavano nessuno, i prezzi sono alti, alla fine avevo dei tessuti e quando ho fatto gli assorbenti avevo un tessuto, un cotone del 100% e cotone e quindi ho fatto delle mascherine, lavo la mia mascherina, la metto a lavare e poi che dopo mi sono pulita io per tutto, mi ricambio. Dopo questo faccio colazione, già tutti quanti qua ci siamo alzati, facciamo la colazione, mangiamo qualcosa e poi se devo sistemare la camera, la mia, la famiglia, la mia famiglia, la mia figlia, e devo pulire qualcosa, sistemo un po' non è che mi metto di così a sistemare, pulire, no, 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 intanto la casa si mantiene pulita. Ok, dopo di questo guardo un po' la TV o se la bambina deve fare qualche compito o se la idea deve fare qualcosa, va bene, io poi dopo entro nelle rete sociale, magari vi auguro un buongiorno su Instagram o vado su YouTube a vedere magari qualche commento che mi hanno lasciato sia in questo canale o nell'altro perché io ho due Instagram, due canali, anzi tre account di Instagram e due account di YouTube quindi sto un po' così in taffarata, cioè la mattina leggendo qua, guardando qua se magari qualcuno mi ha lasciato qualche iscritta o magari no, rispondendo qualche messaggio anche se a volte non ci sono messaggi tutti i giorni, però ogni tanto mi capita un messaggio su Instagram. Ragazzi che mi fanno i complimenti, magari mi chiedono qualche consiglio sulle unghie così e va bene. Poi siccome mi sto alzando tardi ovviamente per mangiare, cioè per il pranzo, quasi che ce l'ho lì accavallato perché io sto facendo colazione tipo alle 11, già l'una devo iniziare a cucinare, va bene? Preparo il pranzo, tra pranzo, compito, guardo un po' la tv, magari faccio qualcosa con la bambina, magari qualche compito così, lei studia anche musica quindi mi mantengo un po' occupata. Poi magari mi guardo un tutorial, adesso sto guardando tantissimi tutorial di come fare il pane, i dolcetti, anche se non li faccio tutti i giorni, però mi piace vedere, cioè io mi rilasso troppo vedendo come fanno una torta o dei biscotti o dei dolci, cioè. Poi entro Facebook e vado sui diversi gruppi, si dice dove sto io ad esempio dei linci, chiacchiere consigli, alcuni gruppi di alcuni supermercati, cioè alcune cose e poi dopo inizio a parlare con mamma o con papà o con le mie migliore amiche qua in Spagna e così un po' mentre tengo, già. E alcuni giorni sì che mi davo il cucito, magari mi facevo una mascherina o magari stavo lì finendo delle assorbenti che avevo detto che avevo fatto uno, va bene, adesso ne ho fatto quattro e purtroppo non l'ho finito perché le clip, cioè le snap, non le trovo e a volte faccio delle ricerche, ad esempio stavo cercando un tipo di tessuto che finalmente l'ho trovato, quello è stato ieri che l'ho trovato, quindi sto vedendo per quella tipologia di tessuto lì che hago mi serve, quindi inizio a fare la ricerca dell'ago per quel tessuto lì. E così è tutta una ricerca qua, in più vado molto su Instagram per vedere che fanno i miei youtuber preferiti, c'è quella che magari sta imparando la chitarra, c'è l'altra che magari fa duolingo con la figlia, c'è l'altro che fa i disegni, tutte le sere alle 8, cioè tutte le persone si mantengono un po' occupate in questi giorni. Io volevo iniziare a imparare a studiare inglese con mio marito, ma ancora non ci siamo messi d'accordo a che ora della giornata farlo e quindi i giorni passano e i giorni passano e ancora no. Però sento che non ce l'ho minuti liberi, cioè o magari 15 minuti liberi, già sia perché sto facendo qualcosa a casa o perché sto parlando con i miei, o magari sto parlando con una amica al telefono o tramite chat con la mia amica che ora che sta là in Radio Emilia o magari con la mia amica che sta a Valencia. Cioè, sto un po' così impegnata sia con me, con le cose mie, cioè con le mie amiche, anche con la famiglia e con altre persone, ovviamente, con le reti sociale, cioè sembra che oggi ho un nudo sulla lingua, davvero, davvero, non riesco a parlare. E quindi queste cose mi mantengono un po' occupate, anche perché mi piace fare troppo ricerca, ad esempio, io voglio fare una torta all'ananas, che l'altro giorno gliel'ha visto fare una mia amica, gli ho chiesto la ricetta, lei me l'ha mandato, non ce l'ho il lievito, allora inizio io, come fare questa cosa qua del lievito, come posso mettere su una torta, che è difficile da fare quella torta lì, il lievito. So che c'è il bicarbonato, però adesso non vi farò una lezione, però so che il bicarbonato si può mettere al posto del lievito perché già l'ho fatto in precedenza, ma un conto fa fare cose un po' semplici, un altro conto è questa torta qua, che è un po' difficile, va bene, è difficile che riesca bene per la maniera come deve essere fatta, no? Poi la sera arriva un momento in che va bene, la bambina deve andare a studiare, mio marito fa musica e io sto da sola e lì mi metto di fronte alla tv e mi sto guardando una serie. La serie in questione è Friends, e sì, e questa sarebbe la terza volta che la sto vedendo, Friends è finita mi sa che nel 2004, quando è finita, io non avevo visto tutti gli episodi, perché va bene, ero in Italia, lavoravo, a quell'epoca non c'era Netflix, non c'era Prime, Amazon Prime, cioè non c'era niente di queste cose, quindi tu le vedevi, non c'era nemmeno YouTube, quando è finita, se non erro. Quindi quando finalmente è venuta questa cosa a YouTube, una delle prime serie che ho visto è stata Friends, poi tipo tre anni fa l'ho rivista e questa volta me la rivedo perché io sono molto molto fan di quella serie lì. A me piacciono i documentari, cioè mi piacciono qualcosa che ti lascia un'insegnanza, o che magari ti rifresca la memoria, o che magari ti aiuta a mettere i pezzi di quelle cose che tu sapevi. E stavamo parlando questo giorno, sono uscita io con il discorso della seconda guerra mondiale, allora io volevo la bambina e mi ha chiesto un po', e ho iniziato a raccontarle, alla fine ho deciso di vedere un documentario che si adatta anche per i bambini. Alla fine lei ha visto tipo due o tre episodi, il resto lo abbiamo visto noi. Quello che abbiamo visto è quello della seconda guerra mondiale a colore, è molto buono, cioè mi è piaciuto tantissimo. In pratica loro hanno, come si dice, va bene ma vi lo spiego un po' così a parole mie perché non mi viene la parola. Questi clip o questi video in bianco e nero loro le hanno come che ristoro ristaurate, le hanno messo a colore. E si vede tutto a colore, quindi avevamo visto. Non mi ricordo se erano dieci capitoli, non mi ricordo. L'avevamo visto tipo in dieci giorni, cioè ogni giorno prima di dormire vediamo uno. Poi arriva il momento della merenda, adesso sto facendo merenda con una marmellata, una mia amica che è andata in Italia a dicembre, lei mi ha portato una marmellata da Cagliari, non lo so se è di quella zona lì, non lo so, è una marmellata di arancio con il cioccolato. Avete presente le fette biscottate, quindi spalmo un po' di formaggio spalmabile e vado sopra con un po' di marmellata e così me la sto finendo io, perché sono l'unica a casa che mangia la marmellata. A me piace tantissimo, però quella lì mi piace, però il fatto che il gusto così acido, no, io sono più dei dolci. Poi dopo devo cacciare i mini verso le 6-7 e faccio tutto quello che vi ho raccontato. Poi dopo ceniamo, prepariamo qualche cosa, io su Instagram vi ho fatto vedere qualche dolce che ho fatto, magari una tarta, magari dei biscotti, cose che ho visto durante il giorno o durante i giorni e li metto in pratica e li faccio. E va bene, poi arriva il pomeriggio, cioè la sera, guardo un po' di tv, magari guardiamo YouTube, se ho registrato un video, profitto e inizio a fare la miniatura o magari inizio a editare e a vedere, cioè la fase di edizione che a volte io posso stare tipo 4-5 ore editando un video, così come posso stare tipo 2-3 ore e ci sono video ad esempio quelli che voi vedete con le fotografie e adesso profitto e vi lo dico qua perché una ragazza mi ha scritto, mi ha detto che non gli era piaciuto questo video qua che lo stavo mettendo qua e che io stavo parlando di moda e perché io ho fatto un copia in cola. Cioè io quando ho letto quello, ovviamente sono un essere umano, io le ho risposte a lei che va bene, che io non posso accontentare a tutti che a volte preferisco contentare me. Quei video lì, quando voi vedete foto per foto, non pensate che questi video siano facili a fare perché non lo sono. Cioè nella fase di edizione e di montaggio, cioè ci posso passare tipo 10 ore, mentre ricerco l'informazione, cerco quello che devo mettere e prendo le foto che più si vedono e che abbiano una qualità diciamo discreta per presentarvela a voi. Poi assemblare tutte come se fosse un puzzle. Questa foto va dopo questa. Poi registrare la storia, cioè le foto, questa qua, questa là. Cioè è difficile, è difficile. Quindi a volte per me è meglio truccarmi, pettinarmi, sedermi qua anche se non c'erano nessuna parte e mettermi a registrare e fare quella tipologia di video lì. Poi dopo, dopo che ho finito tutte queste cose che vi ho raccontato, poi dopo ce l'ho già da dormire e l'ultima cosa che faccio, le do un giro su WhatsApp al telefono per vedere se ce l'ho qualche qualcosa da parte di miei, soprattutto perché anche se qua di notte la è di pomeriggio, cioè io devo stare sempre vedendo. E poi vado a nana. E poi il giorno seguente continua lo stesso, però con altre ricerche da fare. Ad esempio, adesso come vi ho detto all'inizio, sto ricercando un tipo di ago, sto facendo delle ricerche di un tipo di ago per cucire un certo tipo di tessuto perché devo cucirlo a mano. E' così che sto trascorrendo diciamo questa quarantena. Vorrei imparare qualcosa, ma non lo so che. Va bene, già intanto ho imparato a fare le mascherine, ho imparato a fare gli assorbenti, ho imparato a fare alcuni salva slip, va bene, io avevo iniziato a fare il salva slip, ho imparato a fare alcuni biscotti, alcune torte che non avevo mai fatto, ho imparato addirittura come fare il gelato senza la gelatiera, però io ancora non lo posso fare perché ancora qua non fa caldo, se no arriverò tonda all'estate, quindi aspetto più in là. Però era una cosa che io davo per scontato che niente. E va bene, più o meno questa sarebbe la dinamica che faccio io, non so se magari mi avrò scordato qualcosa, se è così vi la lascio giù sotto nell'info box. Ok, il video finisce qua, io vi mando tante visite se ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Ah, ditemi se avete qualche consiglio per l'umidità sui capelli, vi ascolto perché io sono liccia, sono liccia, mi sono passata addirittura la piastra per sedermi qua e guardate questi capelli. Ciao!